Gentili telespettatori, buona giornata. Subito la quarta dose per gli over 60, dice Antonella Viola, riguardo al Covid-19 e sulle mascherine dice sì all'FFP2, la chirurgica non basta. In effetti la mascherina chirurgica che hanno imposto i primi mesi realmente poteva essere già da subito sostituita con la FFP2. Gli attuali positivi in Veneto salgono a 43.000, in crescita anche i ricoveri in area medica, quindi c'è in atto una ondata estiva di contagi che però voi come ben sapete questi contagi estivi non comportano comunque un aggravio della situazione perché quello che è fondamentale sono le ospedalizzazioni. Ecco, anche quando non c'erano i vaccini il SARS-CoV-2 faceva la pausa estiva. Il 21 giugno 2020, anno dello scoppio della pandemia, il Veneto contava appena 6.000 nuovi casi, 583 attualmente positivi, 225 ricoveri in area medica, 12 in terapia intensiva e 0 vittime. Il 21 giugno 2021, situazione simile, 7 nuovi casi, 5.200 attualmente positivi, 297 pazienti in area medica e 41 in terapia intensiva. Ben diverso il quadro che ha confermato la nuova ondata del 2022, annunciata dagli scienziati con un boom di 6.452 contagi, 5.278 in più rispetto ai 1.174 di lunedì. Si va a 4 volte di più, 400% di incremento e ci sono 43.000 attualmente positivi, più 2.772 rispetto al giorno precedente. 512 sono i degenti in area medica, più 34 e 24, meno 4 in terapia intensiva. Tutto ciò una settimana dalla decadenza dell'obbligo di mascherina. Dal 15 giugno è rimasto solo nelle strutture sanitarie, nelle RSA, Residenze per Anziani, e sui mezzi pubblici. La professoressa Antonella Viola, direttrice scientifica dell'Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza di Padova, dice che è arrivata la variante Omicron 5, che aspettavamo dopo averne seguito la diffusione, negli Stati Uniti e in Portogallo. È molto più contagiosa e si nasconde bene agli anticorpi prodotti dai vaccini o dalla malattia stessa. Quindi colpisce pure i guariti. Dal punto di vista clinico dobbiamo ancora capirne il livello di aggressività. Ma sicuramente non è una cosa da poco, dice. Diciamo che stiamo risalendo con i contagi perché fra poco, tra metà e fine luglio, ci sarà il picco. Il numero di nuovi casi è maggiore di quello ufficiale, dato che non tutti i soggetti con sintomi lievi si sottopongono al tampone e tanti ricorrono al test, fai da te, purtroppo non affidabile. I sintomi possono precedere la positività che in quel caso non emerge subito. Quindi il tampone andrebbe ripetuto qualche giorno dopo, ma molti non lo fanno. I tamponi non li fa più nessuno. Questo è il perché non ci sono più positivi, perché realmente non c'è più nessuno che fa i tamponi. Se oggi si facessero tamponi di un milione al giorno, come qualche tempo fa, ci sarebbero mezzo milione di positivi al giorno. Però non è così. Io credo che i contagi oggi siano molto, ma molto diffusi. Secondo me la metà degli italiani è contagiata, però è contagiata non significa niente. Quello che è importante, come vi dicevo, sono le ospedalizzazioni, cioè quante persone sono realmente in ospedale. Quello è importante più del numero di contagiati. Ci possono essere anche 8 miliardi di contagiati e nessuno in ospedale. Allora sarebbe completamente un'altra cosa. Secondo Viola, prima di tutto per difenderci, prima di tutto chi ne ha diritto, cioè i soggetti fragili, gli immunocompromessi, gli over 80 e gli ospiti delle case di riposo, assumano subito la quarta dose del vaccino anticovid. Adesso perché siamo in piena ondata. Anzi, spero che il Ministero della Salute la allarghi a una platea più vasta, cioè dai 60 anni in su. Il resto della popolazione deve continuare a usare la mascherina in situazioni di alto rischio, come code e assembramenti. In qualche esempio, lei dice, se si sta sotto l'ombrellone sul lettino, in passeggiata, in acqua no, ma nel momento in cui ci si mette in fila davanti allo stabilimento per pagare l'ingresso al bar o al chiosco per mangiare o prendere da bere, è bene indossarla, perché difficilmente si è da soli. E ai concerti, lei dice, beh, in momenti di assembramento bisognerebbe mettere le mascherine, e poi è una scelta individuale, il governo ha scelto così, in genere i ragazzi non sentono l'esigenza di indossarla, a meno che non abbiano a casa parenti fragili da proteggere dal rischio di contagio. Secondo me, anche se hanno a casa parenti fragili, non gliene frega assolutamente niente. Beh, alle feste, dice, non lo faranno mai, diciamo la verità, c'è caldo, voglia di stare insieme, di cantare, ballare, divertirsi, di tornare a godere liberamente della propria vita, però restano tutti eventi e luoghi ad alto rischio, come la discoteca, perché il SARS-CoV-2 si trasmette molto rapidamente, quindi se non si vuole usare la mascherina si aspettino, dice, almeno 4 o 5 giorni prima di andare a trovare parenti e amici, soprattutto se fragili, e magari ci si faccia il tampone per essere più sicuri, per sé, per se stessi e per gli altri. Intanto io non credo che i giovani sappiano cosa vuol dire i fragili, sinceramente non credo proprio che sappiano cosa vuol dire i fragili, ma neanche gli adulti lo sanno. hanno sempre parlato dei fragili, sono persone che hanno dei problemi di salute, di vario tipo, e magari una certa età, un quadro clinico compromesso, ma voi sapete che il politicamente corretto deve cambiare le parole, quindi bisogna chiamarli fragili, chi sei? Sono un fragile. Che vuol dire? Fragile, fragile, punto e basta. Non te lo posso spiegare se non politicamente corretto, se te lo spiego che diciamo a fare fragile, perché se lo spieghiamo il politicamente corretto ti dice che non devi spiegarlo. Fragile, punto e basta, senza farti troppe domande. E' quello del politicamente corretto, come lo spazzino, poi netturbino, operatore ecologico, l'infermiere diventa collaboratore sanitario, il bidello diventa collaboratore scolastico, insomma, il politicamente corretto è l'ipocrisia alla massima espressione, quella dove devi nascondere le cose reali per camuffarle da qualcos'altro, no? Beh, il politicamente corretto è una schifezza dei nostri tempi, dei nostri giorni, come adiacente in concomitanza con il pensiero unico. Il pensiero unico e il politicamente corretto vanno molto ma molto a braccetto, anzi, vanno in simbiosi, direi. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Grazie a tutti e arrivederci a presto. Ricordatevi che c'è anche Teleitalia Seconda Rete, dove trovate poi video comunque di notizie, di fai-da-te e poi anche di politica. Ricordiamoci che realmente in questo momento è difficile, e ho difficoltà a riuscire a condividere i video su Facebook in questo mese di giugno. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.